Chiaramente questo è un progetto in cui il capofila del progetto è il Parco Scientifico Tecnologico Siciliano di Catania. Il Comune di Gibellina mette intanto a disposizione questa struttura che chiaramente è una struttura molto particolare, non siamo di fronte, che non è completata, ma non siamo di fronte a un'incompiuta genetica, siamo di fronte a un'opera d'arte di un grande artista quale è stato Pietro Consagra, all'interno del quale chiaramente l'interesse di Gibellina è che finalmente quest'opera sia conclusa, ma poi all'interno di questa struttura nascono tutta una serie di iniziative e il partenariato è davvero un partenariato importante perché c'è il Parco Scientifico Tecnologico come capofila, c'è l'Università di Catania, il CNR, delle fondazioni, la fondazione Orestia, c'è alcune strutture del territorio, ma soprattutto le università che studiano nuovi materiali, eccetera, per cui quello che poi diventerebbe, diciamo è importante quindi questo progetto da un lato perché si recupera una grande e si conclude finalmente una grande opera d'arte, ma soprattutto perché il progetto prevede tutta una serie di iniziative importanti che darebbero sollievo, respiro a tutto il territorio, non solo alla città di Gibellina e lascerebbero lì una serie di sperimentazioni, potrebbero venire qui studenti ma anche formatori per venire a studiare nel campo chiaramente soprattutto dell'arte, ma l'arte non solo l'arte contemporanea ma l'arte antica, Gibellina è un polo importante dell'arte contemporanea ma a due passi c'è il parco archeologico di Selenunte e di Segesta, quindi assolutamente un punto importante per tutti.